Bentornati all'isola dei famosi 2022. Allora, c'è una naufraga che ha un diploma magistrale e poteva fare la maestra. Ma noi per fortuna l'abbiamo spedita sull'isola, vero Carmen? Sì, le sono debilitata. Ecco appunto, per questo faremo il cocco quiz. Sei pronta? Sì. Rosso di sera? Vacanza si spera? C'è la pecorelle? Eh, domani si gioca. A cavallo donato? Donato si diventa. Occhio per occhio? Eh, due. Ma Carmen? Eh, no, no, uno. Vabbè, non dire gatto se? Eh, lardo? Se bacioni. Ma lei sta pensando all'ardo da magnà. Comunque, chiudetemi l'audio perché ho una comunicazione da farvi. Lunedì sbarcherà sull'isola Beatriz, la fidanzata di Roger. Mi vedremo delle belle. Sì, così quando poi cambia nome si fa chiamare Mark Caltagirone. Non esiste. Non esiste. Ma non è ancora che qua te ne vanno, l'avete capito? Mi chiamate un taxi per favore. Sì, ciao, core. Con le mani, con le mani, con le mani. Ciao, ciao. Con i piedi, con i piedi, con i piedi. Buonanotte. Tutto può cambiare.